Buonasera, riprendiamo lo studio del trattato di Heroin, come sempre cerchiamo di seguire un po' il flusso dello studio del Daffiomi, senza una particolare soluzione di continuità. Il tema che volevo affrontare oggi, visto che ci troviamo a ridosso di Simucatora, è lo studio di un brano che si trova all'inizio del quinto capitolo del trattato di Heroin, il tema in questo caso è quello del Eruv Tehumin. Se vi ricordate, introducendo il trattato, abbiamo detto che esistono vari tipi di Eruv, c'eravamo interessati dell'Eruv Hazerot la scorsa volta, cioè vuole dire dell'Eruv che unisce dei cortini, ma c'è un altro tipo di Eruv, appunto che è quello che consente di trasportare all'esterno di un centro abitato per ulteriori 2000 mott, 2000 cubiti, oltre a quelle che normalmente sarebbe, nelle quali sarebbe consente di trasportare secondo la Torah. Cioè, in generale, secondo la Torah non ci si può allontanare durante lo Shabbat più di 2000 mott dal posto in cui ci troviamo, dal posto in cui abbiamo preso Shabbat. Se ci troviamo all'interno di un centro abitato, come vedremo fa poco, il discorso viene esteso e quindi non potremo allontanarci più di 2000 mott dal centro abitato. Se però poniamo appunto un Eruv, poi prima di Shabbat, quindi del Cib, un determinato luogo prima dello Shabbat, potremo spostarci per ulteriori 2000 mott. Qui il capitolo 5 del trattato di Eruvina si interessa di come si stabilisce questo Trum, il limite per stabilire appunto da dove e sino a dove ci si può spostare durante lo Shabbat. E quindi il tema che viene affrontato all'interno di questo capitolo è come si stabiliscano i limiti di una città. Questo perché le città non hanno necessariamente un limite ordinato, per così dire. In che senso? Ci sono, come sapete, delle città tonde, delle città quadrate, delle città che hanno delle escrescenze in determinati punti, dovuti alla conformazione geologica della città o come sono state fissate le costruzioni. In base a queste cose è possibile che una città non abbia una forma geometrica prestabilita. Adesso dire questa cosa a Torino è abbastanza strana, perché Torino appunto come sapete ha una forma geometrica abbastanza delineata. Ci stanno città effettivamente che sono più disordinate. Il Troum, da questo punto di vista, serve a mettere, in qualche modo serve, come vedremo subito nella Micinà, ad appianare determinati squilibri. L'idea di Eruptecomin, di Eruptecomin, appunto, cioè delle Eruptecomin, che serve per favorire questo trasporto, è un'idea di origine rabbinica, come abbiamo visto tante volte. Ed in generale si dice che quando ci sono dei dubbi, appunto, rispetto a Eruptecomin, ci si pone in modo facilitante. E qui, all'interno della Micinà che vogliamo studiare, troviamo un'applicazione ulteriore di questo discorso. Quindi qui, in questo quinto capitolo, notiamo il problema del Troum e di come si calcola il Troum, cioè di come si calcola il limite della città. Come dicevo, esiste una differenza importante tra il singolo che stabilisce le sue possibilità di spostamento in base al luogo in cui si trova l'inizio della Shabbat. Cioè se una persona si trova in uno spazio aperto, potrà spostarsi davanti lo Shabbat di 2.000 cubiti da dove si trova. Se una persona invece si trova all'interno della città, la città in sé per sé, da quel punto di vista, questo verrà affrontato poi in un DAF successivo, è come se potesse essere considerata come un'estensione di 4 ammott, di 4 cubiti da questo punto di vista. E, appunto, se una persona si trova all'interno del centro abitato, potrà arrivare sino a 2.000 cubiti oltre il limite stesso del centro abitato. Come dicevo, appunto, i confini delle città non sono sempre obvi, nemmeno quando ci troviamo di fronte ad una città che è cinta di mura, per esempio. Appunto, per andare poi a stabilire come calcolare il TUM, ci sono degli aggiustamenti e delle facilitazioni che vengono affrontati qui nella Mishnah. E il discorso che vuole affrontare oggi prende all'atto pratico le mosse da una lettera, potete dire, che incontriamo all'inizio della Mishnah. La domanda che pone la Mishnah, vedete tutti quanti la condivisione del mio schermo? Sì, io la vedo bene. Allora, la domanda che pone la Mishnah è che tzad meabberin et earim. Cosa vuol dire questa frase? Come meabberin, ora nel termine meabberin, l'abbiamo incontrato qualche volta già nel trattato di Rosh Hashanah alcuni anni fa, quando avevamo studiato questo trattato, avevamo detto che ci sono degli anni che hanno un mese in più, no? In quel caso si parla di Shana meubberet. Ubar in ebraico è il feto. Una donna che è meubberet è una donna incinta. Tzad meabberin et earim, cosa vuol dire? Come si allargano, potremmo dire, et earim, i confini della città. Cioè la domanda che pone qui la Mishnah è in quale modo deve avvenire l'estensione della città al fine del calcolo del Tukum. Il problema qual è? È che bait niknas, bait yotse, pagum niknas, pagum yotse. Dice la Mishnah, una casa entra ed una casa esce letteralmente, una torre rientra e una torre sporge. Come vi dicevo, i confini della città non sono sempre perfettamente dritti. In questo caso, come dobbiamo calcolare il Tukum? Il principio qui in generale che emerge poi dalla Mishnah Jot di questo capitolo è che si va a cercare di descrivere una forma rettangolare, quando andiamo a descrivere il Tukum della città, il limite della città. Se ho un'escrescenza all'interno del perimetro della città all'angolo sud-est, per capirci, dovrò avere idealmente un'escrescenza uguale contraria sul lato sud-ovest, di modo tale poi alla fine di arrivare a descrivere un rettangolo. E questo è quello che emerge dalla Mishnah. Quindi noi spesso quando parliamo del Tukum siamo portati ad immaginarlo come se fosse di forma circolare. Cioè, vale a dire, noi estendiamo per 2.000 mott, per 2.000 cubiti da dove ci troviamo un cerchio. Invece non funziona così la cosa. In realtà, se noi ci troviamo in un punto prestabilito, dovremmo descrivere un quadrato. Cioè, dovremmo poi, nei quattro punti cardinali, andare a calcolare 2.000 mott, di modo tale da avere poi agli angoli una possibilità di percorrenza maggiore che è determinata dalla misura delle diagonali del quadrato. Cioè, avremo una razio di 1 ad 1,44. Quindi, grossomodo, mal contate, avremo 2.800 mott quando andiamo a calcolare dove ci potremo spostare in diagonale a partire da un determinato punto. E quando parliamo di una città, abbiamo una costruzione del genere. Cioè, noi dobbiamo poi ridurre la città ad una forma rettangolare ed estendere poi il Tukum di 2.000 mott nelle quattro direzioni e acquisendo ancora più spazio, appunto, e la corrispondenza è quella della diagonale, di un rettangolo agli angoli di questa costruzione. Quello di cui si interessa la misnà, però, è una letterina che compare all'inizio. Cioè, scusate, la chiamerà, commentando questa amicina, che è questa lettera AID, no? Noi quando abbiamo spiegato questa espressione, cosa abbiamo detto? Chezad meaberim ete arim, cioè a dire come si allargano i confini della città, cioè come si fa nel fare come se fossero incinta. Ora, questa parola meaberim, scritto colalim, è molto simile ad un'altra parola che è scritta invece colalim, cioè per dire il termine meaberim scritto colalim, e su questo la chiamerà pone un dubbio ed è molto interessante, cioè perché qui la chiamerà prende una strada abbastanza inaspettata, perché inizia da qui un lunghissimo excursus, del quale vedremo oggi solamente alcuni passaggi fondamentali, però comunque vi consiglio voi di leggerlo tutto quanto in traduzione, perché è molto interessante, sullo studio della Torah. E volevo appunto studiare questo brano proprio oggi, perché ci troviamo a ridosso di Simucat Torah, insomma alla festa che è dedicata alla conclusione della lettura della Torah e in qualche modo viene anche a celebrarne lo studio. Il problema qual è? È appunto, come dicevo, come è scritta questa, come si pronuncia questa parola meaberim, no? Dobbiamo sempre tenere conto del fatto che gli insegnamenti di cui parliamo sono insegnamenti che nascono come orali, ed il passaggio oralmente che c'è fra una alef ed una ain, ain che ha un suono nasale, è minimo ed è possibile sbagliarsi nell'intendere questa parola meaberim, sbagliarsi o comunque intenderla in due modi differenti, cioè se è scritta con la ain. Il senso è lo stesso, cioè il senso sarebbe quello di allargarsi, ma il termine meaberim, scritto con la alef, viene da ever. Ever cosa vuol dire? Ever è una delle parti del corpo umano, meaberim, per cui vuol dire allargare questo limite della città pezzo per pezzo. Invece meaberim, scritto online, derivante dai burro, dall'essere incinta, come dicevo prima, ha una forma più piena, più tanteggiante, più ampia rispetto a quello che intendo se dico meaberim. c'è meaberim, dà l'idea di una estensibilità a pezzi, per capirci di un determinato concetto. Ad esempio Rashi dice così, c'è mosifin laevarim, ever ever cosa vuol dire? Che si aggiungono delle parti, delle membra che si aggiungono della città. Cioè se c'è appunto una parte che esce dalla città, al angolo, ad oriente e a sud, quindi a sud est della città, vediamo quindi che c'è un ever, appunto una parte uguale e contraria, beccare de misachrizia vonit, al angolo misachrizia vonit, nord, nord est, e da lì si fa la mitida, cioè si fa la misura, modedin è la stessa radice da cui arriva poi il termine midda, che vuol dire misura. Allora quindi qui troviamo una discussione quindi tra Rabbi e Shemuel, circa il modo in cui si pronuncia questa, è scritta questa parola, meabberinse, con la alef oppure secolarin. Da qui appunto la camera inizia a discutere, riguardo altri casi simili, altre discussioni tra Rabbi e Shemuel, circa degli aspetti che compaiono nella Torah, in modo particolare nei primi due libri della Torah, nel libro di Breshit e nel libro di Shemot. Qui abbiamo un'associazione mnemonica collegata al fatto che a discutere sono sempre Rabbi e Shemuel. e qui troviamo alcune discussioni, che poi confluiscono i commenti classici alla Torah. Ad esempio all'inizio della parashah di Kaieh Sarà, come sapete tutti quanti, Abraham accostisce una grotta per seppertire la moglie di Sarà, e questa grotta è una grotta di Maqra, non una grotta a Maqra. In Rabbi Shemuel discutono circa la conformazione della grotta e l'origine del nome. Il nome Maqra in ebraico richiama la radice di Kefe, quello vuol dire doppio, ma la grotta Maqra vuol dire la grotta doppia sostanzialmente. E su questo Rabbi Shemuel discutono, perché Il problema qual è? La grotta di Maqra è un po' il prototipo della tomba di famiglia. Come ce ne immaginiamo? Esistono due modelli possibili, cioè che le tombe si trovino l'una accanto all'altra, secondo un'idea, oppure secondo un'altra idea... Potete disattivare i microfoni, sento molto rumore. Fiorella può spegnere il microfono? Dicevo che il termine Maqra vuol dire doppio. Allora quindi su questo c'è una discussione tra Rabbi Shemuel, e quindi uno dice Zolif Nin Mi Zoh, cioè quindi le tombe erano una accanto all'altra. Vedete qui nel commento di Rashi c'è un disegno, che ci spiega questa opinione. Petach Meherah, questa è l'apertura della grotta. Abbiamo poi letteralmente una casa più interna, e poi una casa più esterna. Cioè quindi vedete, abbiamo un atrio sostanzialmente, e poi abbiamo due stanze, l'una accanto all'altra. Questa è un'idea, una possibile conformazione della grotta di Maq Pelah. l'altra ed è invece cosa dice? Si tratta di Byte Valia, si tratta di una casa, Byte, e di un'Alià, e di una soffitta. Come intendere questo fatto? Da un punto di vista architettonico si ritiene che l'avere due piani è una divisione maggiore rispetto a quella di avere un muro, un suo conframezzo fra due stanze. Cioè questi due ambienti sostanzialmente non sono considerati, cioè le due camere, una al fiancato all'altra, come se fossero una costruzione doppia. entrambi vengono considerati come se fossero parte di un unico ambiente, secondo quello che viene inteso poi dai Chachamim. Cioè quindi e la le manda marce le batim se le finimise, ma è Maq Pelah. Quindi riguardo questa discussione fra Raffare Shmuel, se noi diciamo che si tratta di una casa con una soffitta, allora è comprensibile essi tratti di una Maq Pelah, effettivamente, di una tomba doppia. E la le manda marce le batim se le finimise, cioè si tratta di due ambienti, uno accanto all'altro, Maq Pelah. Cosa vuol dire Maq Pelah? Perché è doppia? Perché troviamo all'interno di questa grotta delle coppie. Mamre Kiriat Arba. Sapete che il posto in cui sorge poi la grotta di Maq Pelah si chiama Kiriat Arba, cioè vuol dire il luogo dei quattro. Cosa vuol dire dei quattro? Amar Abizkak disse in merito a Abizkak Kiriat Arba Zugot. Si tratta del luogo delle quattro Zugot, delle quattro coppie. Cioè all'interno della grotta di Maq Pelah troviamo quattro coppie famose. Adam Bechavah ed Eva, Avram Bezara, Avram Bezara e Zkak Berifka, Zkak Berifka, Yaakov e Lea. Cioè quindi abbiamo quattro coppie Adam e Eva e tre coppie dei patriarchi. Se ricordate Dachel poi muore per strada quando nasce Binyamin e viene sevolta sul posto. Quindi questa è la prima discussione tra Rab e Shemuel. Una seconda discussione riguarda sempre il libro di Bereshit come dicevamo e la troviamo all'inizio del capitolo 14 del libro di Bereshit riguardo alla guerra dei quattro re contro i cinque re narrata appunto nella parashah di Lech Lechà. A inizio del capitolo 14 c'è scritto Vaimmi meh Ammafel e fuo ai tempi di Ammafel. Scusate prendo un kumash per leggere il versetto. Capitolo 14 del libro di Bereshit Diceva Dachel Vaimmi meh Ammafel, melech Shinar, arioch melech Elasar, Kedorlomer, melech Elam, betidal, melech Goim. Al tempo di Ammafel, re di Shinar, arioch re di Elasar, Kedorlomer, re di Elam, etidal, re di Goim. Accade, prosegue poi la Torah dicendo Accade che si faceva guerra con Bera, re di Sodoma, Birshare di Gomorra, Cina, re di Atma, Shemever, re di Zevoim e il re di Bela, oggi Zohar. Questo testo inizialmente descrive appunto una situazione politica abbastanza complicata e il fatto che abbiamo una guerra di quattro re contro cinque re. Chi è questo Ammafel? Qui ad esempio nella nota del disegni c'è scritto Alcuni lo identificano con Ammurabino, il noto re di Babilonia, Shinar, autore del codice di reggi che porta il suo nome. Qui la chiamerà da un'altra lettura e fa riferimento ad un personaggio che compare in un altro brano del libro di Bereshit che è Nimrod. Si parla appunto di Nimrod in precedenza e non deve essere Nimrod un tipo molto raccomandabile. Nimrod, come sapete, ha a che fare poi con Ammurabino e qua dicono che c'è un'identificazione fra questo Ammrafel e Nimrod. Questo perché? Nuovalmente perché il nome di Ammrafel oppure Nimrod viene ben interpretato. Nimrod tradizionalmente è quello che mette Avram Avino nella Kivshan Naesh, nella fornace, lo butta nella fornace e Avram viene miracolosamente salvato. Allora, quindi c'è Beram Manikra, se riguarda questo pezzetto, Beribime Ammrafel, quindi fu ai tempi di Ammrafel, in un momento c'è una discussione fra l'Ave Shemuel. Hadamar Nimrod Shemoh, uno disse che Nimrod era il suo nome, Beram Manikra Shemoh Ammrafel. Perché viene chiamato Ammrafel? Rispetto al fatto che ci sia un'identificazione tra i due, tutti quanti sono d'accordo. La domanda però è qual è il nome e qual è l'epiteto. Secondo alcuni, cioè secondo un'idea, il nome era Nimrod e Ammrafel è l'epiteto. Ammrafel è un termine composto secondo questa idea, perché quello che Ammar ha detto, ha parlato, Be'ipil, vedete, Amar Be'ipil, quello che ha detto e ha il verbo Le'apil vuol dire far cadere, è quello che ha parlato e ha fatto cadere Avraham a Vinul e Bedokif Shanesh, nella fornace di fuoco. Hadamar invece, secondo l'altra opinione, Ammrafel è il suo vero nome, Belam Manikra Shemoh Nimrod, perché viene chiamato Nimrod. Nel termine Nimrod c'è una radice che è quella Mem Resh Dalet, che è la radice della ribellione. Che è quindi colui che ha Imrid, ha portato in ribellione, e ha fatto ribellare tutto quanto il mondo a Lav, su di lui, contro di lui, vale a dire contro Kadosh Barofu durante il proprio regno. Quindi, nuovamente, Rab e Shemuel discutono circa qual è il nome, qual è l'epiteto quando si parla di Nimrod relativamente a questa identificazione con Ammrafel. Una terza discussione fra Rab e Shemuel. Nuovamente, come vedete, vengono accomunate qui le discussioni fra Rab e Shemuel per favorire la memorizzazione. Qui ci troviamo a Ezio della Barashah di Shemote. La Torah ci dice che è sorso un nuovo re sull'Egitto, Asherlo Yedait Yosef, che non conosceva Giuseppe. Qui c'è una discussione sempre fra Rab e Shemuel. Uno dice veramente che si tratta di un nuovo re. Cioè, lo intituliamo una nuova dianastia in Egitto, e costui, questo re, non conosceva Giuseppe. E l'altro disse che i suoi decreti siano rinnovati. vuole dire che c'è stato un cambio di politica all'interno dell'Egitto. Mande Amar, Khadash, Mamash, Diktib. Khadash. Cioè, chi dice che si tratta di un nuovo re? Perché dice così? Perché c'è scritto Khadash. C'è scritto che si tratta di un nuovo re. Mande Amar, Khadash, Khadash, Khadash. Invece chi sostiene che si tratta di un nuovo re, ma che ha cambiato politica. Mande Amar, Khadash. Perché non c'è scritto che che morì e regnò. Cioè, per esempio, se noi pensiamo sempre a come è costruito il libro di Rashid, c'è un capitolo, nel capitolo 36, dove vengono indicati i vari re di Edom. Lì c'è questo ritornello che è che un re muore e regna un altro re al suo posto. Qui invece, in questa circostanza, non viene fatta menzione della morte del faraone e c'è scritto solamente che sale un nuovo re. E questo dà adito appunto all'idea che si tratta in realtà dello stesso re che ha rinnovato la propria politica, che ha cambiato politica. Akhtib, però d'altra parte c'è scritto che non conobbe Giuseppe. Adesso, se si tratta dello stesso faraone che c'era ai tempi Giuseppe, perché c'è scritto che non conobbe Giuseppe, ma che aveva fatto un'opera di dissimulazione, cioè che aveva fatto finta di non conoscere Giuseppe per niente. Tant'è che poi i commentatori, andando a sviluppare questo discorso, ritengono che il tratto fondamentale di questo faraone, che secondo le due idee che emergono qui era lo stesso, non ha la caratteristica della karatatop, cioè della riconoscenza nei confronti di Giuseppe. Cioè dimentica i benefici che Giuseppe ha fatto all'Egitto tutto ed inizia appunto questa politica anti-ebraica estremamente forte. Ora la Gemara passa ad un discorso leggermente diverso, intanto rispetto a come leggere questa miscina, ovviamente a questa discussione se leggerla con l'Alef oppure con l'Ain, e questo è il ritornello nei vari discorsi che compaiono all'interno di questo DAF e quello successivo della Gemara. C'è 18 giorni, i dalti sono cresciuti per cui per 18 giorni, presso Rabbi Oshaia Beribi, il grande potremmo dire, non ha imparato da lui se non una cosa rispetto alla nostra miscina. Rashi rispetto a questo Beribi spiega Adam Gadol Bedorò, era un grande nella sua generazione, e tutte le volte che troviamo questo termine, questa è la sua spiegazione, cioè lui era uno dei principali maestri all'interno della sua generazione. non ha imparato altro che una cosa rispetto alla nostra miscina, chezzat meaberin ette arim bealef, cioè che il termine che abbiamo utilizzato nella nostra miscina è chezzat meaberin, cioè come si estende la città bealef, scritto con l'Alef. Chiede alla camera, è veramente così? C'è una... viene riportata una testimonianza, sempre nel Biyo Hanan, che dice così che questo maestro, aveva dodici talmidim, aveva dodici allievi, sono stato, sono cresciuto letteralmente in mezzo a loro, per diciotto giorni, e ho imparato letteralmente, il cuore letteralmente, cosa vuol dire questo cuore? si parla della loro perspicacia, nello studio, Bechokhmat, Kolechad Vechad, e la Kukhmà è la sapienza di ciascuno di loro. Lev Kolechad Vechad, Bechokhmat Kolechad Vechad, cioè quindi quando si parla della perspicacia e della sapienza di ciascuno, Gamar effettivamente l'aveva imparato, ma quando si parla di Gemara, Gemara vuol dire studio in generale, in generale, allora non l'ha imparato da loro. Lo Gamar. Ibaite ma, oppure, minna io di tu, Gamar, minne di te, lo Gamar, oppure ha imparato da loro, cioè quindi lui ha imparato, Rabbi Okanan, dagli allievi, Rabbi Oshayaberi Bi, degli insegnamenti, minne di te, però direttamente da lui, lo Gamar, non ha imparato nulla, oppure, altra possibilità, in merito, c'è l'unica cosa che ha imparato, cioè quando si parla della nostra Mishnah, quindi ha imparato tante cose da Rabbi Oshayab, ma rispetto alla nostra Mishnah ha imparato solamente il fatto che è scritta con la Aleph. e c'è un'altra testimonianza, sempre di Okanan, in merito, che è interessante questa cosa, in tempi di Covid, appunto nel forum dell'Affio Min, insomma nel quale mi trovo, ero uscita una riflessione interessante in merito, che era quella del tema dell'accalcamento durante lo studio, no? tempo di Covid, l'idea fondamentale è quella del distanziamento. Qui invece troviamo una testimonianza che durante le sessioni di studio c'era un grosso desiderio di essere più vicini possibili al maestro, e le persone si accalcavano per ascoltare. Quando studiavamo Torah, adesso Rabbi Oshayab, stavano, Amma è la misura del cubito, quindi mezzo metro, ci troviamo per cui Arba, Arba, quattro persone e Bamma in un cubito, cioè quindi uno sopra l'altro, Amma al-Rabbi, Kshinu, l'intorazza Rabbi Oshayab, ben Shamuah, altra testimonianza, al nome di Rabbi, quando stavamo a studiare Torah, presso Rabbi Oshayab, ben Shamuah, noi in Ushpin, Shisha Shisha Bama, ci troviamo sei persone, Bamma in un cubito, cioè quindi c'è questa idea molto forte dell'accalcamento durante lo studio della Torah, l'assemblamento per lo studio della Torah. Come dicevamo, quando si parla di Beribì nella nostra tradizione, si tratta di una versione molto importante, dello studio sul più importante all'interno della propria generazione. Disse Rabbi Oshayab, Rabbi Oshayab, nella sua generazione, che Rabbi Meir Bedorò è paragonabile a Rabbi Meir nella sua generazione. Rabbi Meir è uno dei principali maestri della Mishnah, e cosa si dice in merito? Ma Rabbi Meir Bedorò? Come Rabbi Meir nella sua generazione, loyak lulukhaverav, la moda al soft dato, i suoi compagni di studio, non potevano arrivare al soft dato, fino letteralmente alla fine della sua intenzione, della sua comprensione. ciò vuole dire che Rabbi Meir, quando illustrava degli insediamenti, riusciva a dissimulare talmente bene i ragionamenti da non far comprendere alle persone dove effettivamente volesse andare a parare. e quindi aveva la capacità di mostrare, spiegare come era sempre qui, Massachette Ruvin, Indaf, Yud Gimel, Panim lehan ukan, cioè dei lati da una parte e dall'altra, per mostrare con una determinata cosa è pura oppure è impura, in maniera assolutamente paritetica. e qui appunto troviamo un punto di contatto abbastanza interessante tra lo studio della Torah e la retorica antica, se non addirittura alla sofistica. Rabbi Meir appunto aveva questa capacità di fare dei ragionamenti volti ad indirizzare la discussione praticamente dove voleva, e riuscendo a convincere l'interlocutore della giustezza di qualsiasi idea sostanzialmente. E Rabbi Ushaia viene paragonato a Rabbi Meir da questo punto di vista. Cioè come per Rabbi Meir nella sua generazione i suoi compagni non erano in grado di capire effettivamente dove volesse andare a parare, a Rabbi Ushaia lo Yahruha veravlamo dal suo dato. Anche per Rabbi Ushaia i suoi compagni non capivano dove riuscivano a comprendere pienamente il suo pensiero. E qui troviamo delle immagini, sempre a nome di Rabbi O'Hanan, riferito a come la nostra comprensione si riduca progressivamente nel tempo. E ci sono delle immagini in merito. E' come l'atrio dell'Ulam, abbiamo già parlato qualche volta fa di questo discorso. le misure dell'Ulam, appunto dell'atrio del Betamigdash, era di 40 cubiti per 20, e Veshala Korim, quello invece delle generazioni posteriori, che Fitkosh e Lechal, come quello dell'Echal, che aveva una misura di 20 per 10, e noi invece abbiamo una comprensione pari a quella della punta di uno spillo. Tante volte troviamo delle immagini del genere all'interno della nostra dedizione. Ad esempio possiamo pensare a quello che dice Rabbi O'Hanan, in punto di morte, quando sta per morire e dice che ciò che ha imparato dai suoi maestri è come un cane che lecca il mare, per esempio. Cioè questa immagine molto bella e molto verica. Qui troviamo qualcosa di simile. Cioè la comprensione delle prime generazioni è molto più ampia rispetto alla nostra. Su questo troviamo delle visioni contrastanti. Cioè da una parte appunto c'è l'idea che le generazioni nel tempo siano in continua diminuzione, in continuo di cadimento, e dall'altra parte invece siamo con dei nani sulle spalle dei giganti. Cioè c'è una crescita progressiva nella sapienza di una generazione all'altra. Qui appunto troviamo un esempio della visione più pessimistica. Noi abbiamo una comprensione sempre più limitata della Torah. Chi sono le Rishonim e gli Akharonim di cui si parla nella chiamarà Rishonim Rabbi Akiva, Akharonim Rabbi Razar Ben Shamua, si accetterebbe per cui di questi di questi Akharonim, Ikkadeam Rishonim Rabbi Razar Ben Shamua, Akharonim Rabbi Razar Ben Shamua. Altri invece cosa dicono? Che Rishonim è Rabbi Razar Ben Shamua, e gli Akharonim le ultime generazioni sono Rabbi Razar Ben Shamua, di cui si parlava di prima. Ciò che invece è assolutamente certo, noi invece siamo come la punta di uno spillo. Poi vengono riportate altre immagini per spiegare questa idea, immagini abbastanza oscure, insomma uno dice come un pulcino che si trova una piccola fessura in un muro, a Baillet, Rava dice che noi la nostra mente opera come se si infila un dito in una lampada di cera, per comprendere le nozioni precedentemente sconosciute, oppure come una persona che mette un dito in una fossa, secondo un'altra idea, per quanto è facile dimenticare. Comunque l'idea che emerge da queste immagini è che la nostra capacità di comprensione, la nostra capacità di incamerare delle informazioni è sempre più limitata nel tempo. La domanda però a questo punto è come si mantiene invece la Torah? Ed è possibile che fra questo discorso che abbiamo appena affrontato, cioè quello della intelligibilità delle proprie idee e quello che stiamo per affrontare con la precisione del linguaggio, ci sia un legame estremamente forte. riprendiamo da qui lo studio del testo ma Rabbi Udà ma Rav, dice Rabbi Udà il nome di Rav, Bene Iudà, Sheikpidu al-Leshonam, Nitkayemah Toradam Be'yadam, cioè i Bene Iudà, gli abitanti di Giuda, Sheikpidu al-Leshonam, che erano meticolosi nella loro espressione linguistica, Nitkayemah Toradam Be'yadam, la loro Torah si è mantenuta in mano loro letteralmente, Cioè sono riusciti a preservare le informazioni. Bene Galilei invece, gli abitanti della Galilea, Sheikpidu al-Leshonam, che non stavano attenti alla propria espressione linguistica, Nitkayemah Toradam Be'yadam, la loro Torah non si è mantenuta. Mide Be'kpeda Tariamilta, cioè tutto quanto dipende dalla Kpeda, cioè dalla pignoleria e là, come dobbiamo intendere questo fatto? Bene Iudà, De'raich Elisciana, i figli di Iudà, la cui espressione linguistica era precisa appunto, era molto puntuale, Umat ne leusimana, Umitrake leusimana, e lasciavano dei simanim, dei segni, Nitkayemah Toradam Be'yadam, la loro Torah si è mantenuta. Bene Galilei, De'raich Elisciana. Invece gli abitanti della Galilea, che Lodai Chelisciana, la cui espressione linguistica non era precisa, Belomitrake leusimana, e non lasciavano dei segni, Lonitkayemah Toradam Be'yadam, la loro Torah non si è mantenuta. La loro Torah. Quindi impariamo due cose sostanzialmente qui. Uno è il fatto che è necessaria precisione da un punto di vista linguistico. primo aspetto. Il secondo aspetto è che bisogna mettere dei simanim nello studio. Cioè bisogna mettere dei segni che rappresentano degli appigli a livello concettuale per memorizzare meglio lo studio. Tante volte nella Camara troviamo degli esempi di questo fatto. Tante volte abbiamo studiato tanti i brani della Camara troviamo dei simanim, dei segni, che sono appunto delle formule mnemoniche dove vengono elencati i vari argomenti che vengono affrontati poi all'interno di ciascuna sughia, appunto all'interno di ciascuna parte della Camara. Questi simanim servono proprio a spiegarci qual è la concatenazione logica dei concetti in maniera estremamente sintetica. Cioè noi attraverso la concatenazione di cinque o sei parole ricordando questi simanim possiamo poi andare a ricostruire mentalmente la sughia, appunto il discorso che stiamo affrontando e possiamo comprendere poi in maniera precisa con un colpo d'occhio qual è la concatenazione logica delle idee. Altro motivo per cui lo studio dei abbinanti di Yehuda si è mantenuto I figli di Giuda, i abitanti di Giuda imparavano da un unico maestro e in questo modo la dottorassa è mantenuta. Bene Gali invece i abitanti della Galilea che non imparavano da un unico maestro la loro Torah non si è mantenuta in mano loro. Ravina invece dice un'altra cosa in merito Bene Iudà di Gilu Massechtà che svelavano lo studio la loro Torah non si è mantenuta. Bene Gali delogale Massechtà invece gli abitanti della Galilea letteralmente che non svelavano lo studio la loro Torah non si è mantenuta. Questo è anche una discussione che c'è a livello pedagogico cioè se è importante mantenere all'interno dello studio l'effetto sorpresa cioè se dire a priori quale sarà l'argomento della lezione in modo tale che poi gli studenti si concentrino già sul tema che viene affrontato e già ragionino su quali sono gli aspetti principali all'interno dello studio e le possibili domande poi da rivolgere al maestro. Appunto gli abitanti di Giuda su questo Gilu Massechtà cosa facevano? svelavano già dall'inizio su cosa si sarebbe concentrato lo studio. Invece gli abitanti della Galilea non facevano altrettanto e si dice che tra i due sistemi cioè quello tra il rivelare e il non rivelare il rivelare è l'aspetto migliore. L'effetto sorpresa quando si vuole studiare e si vuole fare in modo che lo studio sia efficace non è considerato una buona c'è poi nella camera una parte che saltiamo ora che riguarda l'approccio allo studio di David e quello di Shaul e si dice nuovamente che lo studio di David si è mantenuto perché aveva questo livello di approfondimento superiore che è Gale Massechtà che svelava l'argomento dello studio di volta in volta e poi c'è una domanda che viene rivolta agli abitanti di Giuda proprio perché erano precisi rispetto alla nostra Mishnah in realtà si fa riferimento a questa Mishnah in Eruvin ed un'altra Mishnah che compare in Massecht Bekorot riguardo al possibile difetto di un Bekor di un primo genito di un animale che aveva un unico testicolo e questo appunto potrebbe essere considerato un difetto ora non entro nel merito però lì c'è una discussione su com'è scritta una parola in terna Mishnah cioè se si parla di Akuzo normalmente è scritto con l'Alef o Akuzo scritto con l'Ain appunto il discorso è quello di controllare lo scroto sostanzialmente di questo animale per vedere se c'è un secondo testicolo insomma e non c'è alcun difetto e semplicemente il secondo testicolo non è sceso e quindi visto che c'è una discussione anche qui su come leggere questa questa parola la domanda viene rivolta agli abitanti di Iuda i quali rispondono che le due versioni sia in un caso che nell'altro sono equivalenti cioè per cui si può intendere sia Meaberin scritto con l'Ain e Meaberin scritto con l'Alef Akuzo scritto con l'Alef o Akuzo scritto con l'Ain e entrambe le lezioni sono ugualmente 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 accettabili e c'è poi un esempio nella Mishnah sia un brano abbastanza divertente abbastanza difficile da un punto di vista linguistico vediamo soltanto un pezzettino rispetto alla precisione dei figli dei abitanti di Iuda bene Uda c'è questa precisione dei abitanti di Giuda in cosa consiste che c'era appunto un abitante di Iuda che diceva che doveva vendere un tallitto un manto un vestito amru leu mai gavan talitra chiedono qual è il colore di questo di questo tallit e per far vedere appunto la precisione linguistica degli abitanti di di Iuda viene riportato questo questo esempio e cosa risponde si tratta del colore di una tradin di una barba al bietola diciamo nella Mishnah che spunta dal dal terreno questo per far vedere appunto quanto sono precisi nella nella loro nella nella loro espressione linguistica c'è poi un invece discorso parallelo riferito agli abitanti della della Galilea e dice così cioè loro non essere decisi nel parlare mai che cos'è cioè come si esprime c'era un abitante della Galilea che stava andando e gli dissero e cioè disse loro amarle man amarle man cosa cosa disse chi ha un ammar chi ha un ammar ora questo termine ammar è un termine estremamente ambiguo come vedremo amarleu gli dissero gelilash o te stupido abitante della Galilea chamar lemirkav o chamar lemishti chamar lemilbash o ivmar leitkassà chamar lemirkav chamar come vedete alla radice di chamar la lettera alef e la lettera chet sono abbastanza simili e quindi dicono stupido Galileo sta chiedendo un chamar un asino lemirkav da cavalcare oppure chamar lemishti chamar scritto scritto nello stesso nello stesso modo in aramaico chamar vuol dire asino chamar in aramaico vuol dire yain invece vuol dire vino o chamar lemishti per cui vuoi del vino da bere chamar in aramaico la lettera hain è una tzadi in ebraico amara scritto con la hain sarebbe semer lemishti per cui stai chiedendo della lana per lemishti per vestirti per cui per farlo un vestito o imar oppure un imar vale a dire una pecora leit cassà per per mangiare e quindi vedete una stessa parola se non non si è precisi nell'esprimersi può avere varie letture differenti questo per mostrare appunto attraverso questa semplice parola questa parola amara quanto gli abitanti della Galilea non fossero precisi nel 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 parlare allora per oggi mi fermerei qui e vorrei proseguire se siete d'accordo eh prossima volta questo eh questo discorso che insomma è abbastanza eh abbastanza interessante e appunto nuovamente vedremo vari discorsi riguardo lo studio della Torà e come si favorisce poi la memorizzazione durante lo studio termino la condivisione dello schermo non 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 non